Soiole alla mugnaia o solmeniere, una deliziosa ricetta della tradizione francese. Inizia ripulendo delle belle soiole fresche. Togliere la pelle è facilissimo. Fai una piccola incisione sulla coda e tirala via. Se non l'ha fatto il pescivendolo, togli l'interiore e sciacqua bene il pesce. Poi passalo nella farina. Metti il burro in un pentolino e fallo cuocere finché diventa marrone chiaro. Si chiama beurre noisette. Aggiungi il succo di un limone, una bella spolverata di pepe nero, un pizzico di sale e tanto prezzemolo tritato. In padella sciogli ancora un po' di burro, lo so ce ne vuole tanto, fai dorare il pesce esternamente per pochi minuti. Et voilà, sei già pronto per servire. Metti il pesce nel piatto e completa con tanto beurre noisette. Finalmente è ora dell'assaggio. Buonissimo!